ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dal sito astra ebbene sì ho dovuto fare questi acquisti perché la prima tranche di acquisti non mi è bastata quindi dovevo assolutamente fare un secondo giro ovviamente ho preso delle cosine e ve li volevo far vedere quindi ho aspettato un pochettino perché è stato un periodo non tanto bello ma visto che ci stiamo riprendendo piano piano la nostra quotidianità la nostra vita ho deciso di farvi questo video quindi io ho due pacchettini per quanto riguarda di astra per quanto riguarda astra perché c'erano degli sconti avevo visto dei video e quindi ho voluto fare questo questo ordine iniziamo subito nel farvi vedere cosa ho acquistato così riuscirò finalmente a farvi una full face direttamente con tutti i prodotti di astra quindi iniziamo allora per prima cosa vabbè c'era tutta questa velina tutte queste cose e c'era anche questo bigliettino come ringraziamento che mi è piaciuto tantissimo per quanto riguarda astra e veramente sono molto molto contenta poi ovviamente vi metterò qualche foto per quanto riguarda anche instagram allora nella prima tranche ho preso questi prodotti perché alcune cose sono state anche consigliate dall'altra makeup angel come ad esempio mi è stato consigliato da Betty82 questo rossettino qua perché lei ha preso alcuni colori di questa gamma e quindi ero molto curiosa poi come vi ho detto mi servivano per fare una full face e quindi l'ho voluti prendere questo è lo 08 della linea astra lipstick matte questi qua ed è l'ipnotic move e questo se non mi sbaglio l'abbiamo preso uguale anche Fabiana Lizzi l'altra makeup angel questo ovviamente è un malva quindi non potevo non prenderlo e siccome ci siamo anche confrontati per quanto riguarda i nostri carrelli perché avevamo fatto dei carrelli in vari posti e quindi avevamo confrontato diciamo e quindi questo è un malva non è proprio il malva che io utilizzo perché vabbè oggi ho un nude di Nabla comunque mi piace è un malva che diciamo sta sulle mie corde io non vedo l'ora di utilizzarli proprio per farvi vedere direttamente i prodotti non vi so dire i prezzi cioè qui c'è la tabella dei prezzi però in caso ve li metterò giù nell'info box così non perderemo tempo perché sono un bel po' di prodotti un altro rossetto che volevo provare questo se non mi sbaglio era scontato è della linea Astra My Lipstick Full Cover e questo è lo 06 lo 06 TEA TE-I-A è scritto così questo è nel packaging normale ed è un nude di solito io non acquisto i nude di questa tonalità ma spesso mi capita di fare un trucco ad esempio come questo che vedete qua e sinceramente ero molto curiosa di vedere questo colore come mi stava perché non è proprio un nude come quello che indosso perché quello che indosso è un po' più marroncino questo invece è più arancione cioè è una specie di terracotta e quindi volevo vedere come mi stava sul viso essendo che questi prodotti veramente costano pochissimo e sono molto molto buoni lo volevo assolutamente provare quindi ho preso TEA comunque poi ve lo scriverò qui o giù nell'info box la cosa che non vi aprirò saranno i mascara io ne ho presi tre perché sinceramente ero molto molto curiosa di provarli e in più non mi ricordo se questi due erano scontati ora non mi ricordo il prezzo vediamo se è scritto qua che lo dico subito perché c'erano dei ecco sì i due mascare venivano uno 1,45 euro e uno 1,35 euro quindi l'ho dovuto prendere cioè lo sconto era abbastanza basso da prenderle tutte e due io ho preso questo qui che è xlash curl black mascara quindi un mascara curvante in caso vi metterò la foto se lo trovo aperto perché devo finire due mascara quindi per questo non li apro e questo invece è sempre della linea xlash volume questo invece è intensive black mascara e questi costavano pochissimo e l'ho voluto prendere e poi ho preso questo che è un sexy sexy volume sempre mascara ed è con il packaging così dorato tutto specchiato e sinceramente ho sentito parlare benissimo da fabiana per quanto riguarda i mascare quindi li ho voluti prendere ma ancora non abbiamo finito per quanto riguarda i mascare poi ho preso questi due fondotinta uno è all'aloe vera e questo me l'ha sempre suggerito fabiana per il fatto che io ho una pelle secca tendenzialmente al secco e questo è astra my foundation fondotinta idratante con aloe vera adatto a tutti i tipi di givi pelle io ho preso la colorazione numero 23 no questo non me lo ricordo se è giusta la colorazione sinceramente adesso lo apriamo e vediamo ah è sigillato vedete non lo sapevo io questi non li ho provati perché come vi ho detto non era un buon periodo quando sono arrivati quindi li proverò questo è il colore spero che sia buono per la mia carnagione e poi ho preso questo che era scontato ed è l'astra my foundation fondotinta idratante però questo è adatto a tutti i tipi di pelle non è con l'aloe vera e questo è nella colorazione 02 queste erano scontate di questo lo so qua non c'era il il salva infatti questo è scurissimo questo è molto molto scuro vedete molto molto scuro nemmeno quando sono abbronzata sono così comunque lo volevo provare forse ho sbagliato io la colorazione perché del primo fondotinta che ho preso di astra che ve lo faccio vedere che ce l'ho qui dove è? no non è questo dove è il fondotinta? ah ecco ecco di questo fondotinta la colorazione è troppo troppo chiara sembra di più un correttore ve lo metterò vicino agli altri sembra veramente di più un correttore che un fondotinta e vabbè anche l'altro proprio io ci azzecco con i colori proprio azzeccato no vabbè questo è molto più chiaro questo qua questo è molto più chiaro chi è? ok questo è molto più chiaro vabbè poi li proverò ovviamente vi farò sapere come mi ci trovo poi nell'altra scatolina che è arrivata perché sono arrivate tutte e due in un giorno mi hanno fatto anche un regalino perché è arrivato proprio è arrivato il sabato non mi sbaglio quindi super giù verso la festa della mamma infiatti infiatti proprio infiatti infatti mi hanno regalato un ombrettino proprio per la festa della mamma quindi li ringrazio tantissimo e nel frattempo vi faccio vedere anche il regalo che mi ha fatto mio figlio Carmelo che è questo sono rimasta molto molto contenta sinceramente perché stava male in quel periodo quindi mi è arrivato questo ed è stupendo bellissimo ovviamente è un regalo dei miei figli quindi tutti i regali sono bellissimi e questo è il pensiero che mi ha fatto mio figlio Carmelo ovviamente per la mia stanza quindi per questa stanza ed è stato un pensiero veramente molto molto bello qui c'è anche una frase non so se si legge aspettate che mi avvicino ma si legge o no? allora si legge o non si legge? ecco qua ed è molto molto bello e quindi sono molto legata a questa cosa lo ringrazio tantissimo perché è stato veramente non me l'aspettavo sinceramente non me l'aspettavo quindi lo ringrazio tanto e niente ritorniamo ad Astra ritorniamo ad Astra e quindi ringrazio tantissimo per questo ombretto ed è molto molto bello e questo è lo 08 non lo swatch perché non intendo aprirlo perché c'è un arancione una specie di salmone io non utilizzo questo tipo di colore poi andiamo avanti sempre carte cartine eccetera eccetera ho preso un altro fondotinta allora io e i miei fondotinta ho preso questa tonalità tonalità questa quest'altro tipo di fondotinta diciamolo così questa è l'Astra Iconic Perfect Liquid Foundation ed è nella colorazione 03 vediamo l'apriamo anche questa perché ovviamente io prima che farò il video mi sa che questa sarà quella esatta mi sa di sì questa è molto più liquida ovviamente questa mi sa che il colore dovrebbe essere giusto ed è questa questa più liquida nel mezzo mi sa che su tre fondotinta uno forse l'ho azzeccato ed è questo ed è sempre liquido ed è sempre per una pelle secca quindi è per me l'altro mascara che me l'aveva segnalato Fabiana è questo qui rosso perché mi aveva detto che gliel'aveva segnalato Alex quindi Alex l'ho preso anch'io l'ho preso e quindi lo volevo prendere questo lo aprirò perché questo sicuramente lo utilizzerò tra tutti perché se dovrò fare un full face per quanto riguarda astra lo voglio utilizzare e da questo scovolino a forma di pino o dicono gelato non lo so dipende come lo mettete comunque questo che sicuramente lo proverò e vi farò anche di questo sapere quindi non vi preoccupate ma li vedrete utilizzati tutti i prodotti che sto facendo vedere un'altra cosa che volevo assolutamente provare è questo primer per quanto riguarda il viso ed è il ritual primer smoothing effect quindi è una base trucca perfezionante e fissante io lo volevo provare perché ho sentito parlare benissimo per quanto riguarda questo prodotto e quindi vabbè lo metto questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere e anche questo se non mi sbaglio era scontato poi un'altra cosa che sicuramente non il colore sicuramente sarà un un optional perché non utilizzo mai questo tipo di colore ho preso un blush un blush ovviamente malva questo è lo 04 ed è ovviamente ovvio che era un malva bellissimo il colore è quello che io preferisco in assoluto perché quello è il colore che adoro ed è bellissimo ovviamente è sfumato ed è stupendo non vedo l'ora di utilizzarlo mi hanno detto che sono ottimi per quanto riguarda i blush sia come come forma come texture abbastanza sottile e quindi l'ho voluto prendere io spero di trovarmi bene anche con i blush quindi prenderò forse qualche altro colore anche se è uscita la nuova palettina e mi piacerebbe prendere la 02 perché so che quelle tonalità mi stanno bene poi andiamo alle matite sapete tutti che io sono in cerca della matita nera perfetta per quanto riguarda i miei occhi e quindi ho preso alcune matite per quanto riguarda le labbra però ho preso due matite per abbinarle ai rossetti che vi ho fatto vedere poco fa infatti mi è caduta una matita aspetta allora vi stavo dicendo che ho preso due matite per quanto riguarda i rossetti di poco fa e ho preso la 33 e la 46 e vi faccio vedere i colori la 33 che è questa qua per abbinarla al rossetto e la 46 sempre per abbinarla al rossetto ed è questa allora e queste sono le due matite perché le ho preso ovviamente abbinate per i rossetti spero di trovarmi bene ma come texture sinceramente mi piacciono la matita per le labbra ho cannato perché la volevo leggermente più chiara però quella c'è la numero 33 però va bene sì mi piacciono poi ovviamente le dobbiamo vedere sulle labbra per l'abbinamento sapete che io ho il tatuaggio sulle labbra quindi leggermente più scure diventano con l'effetto del mio tatuaggio poi come vi ho detto ho preso delle matite per quanto riguarda le poi ho preso le matite nere per quanto riguarda gli occhi sapete tutti la mia fisse quindi volevo assolutamente qualcosa che mi scrivesse dentro l'occhio che non sia le liner perché sì le liner mi dura ma dopo un pochettino lo sento che mi cola proprio sotto l'occhio quindi non mi piace molto e quindi ho voluto prendere queste quattro matite allora la prima è l'astra non so perché mi viene di dire extra non lo so la prima è l'astra col black matita kajal occhi vediamo cosa dice se dice qualcosa di particolare no non dice niente di particolare questa è la matita ha il packaging tutto nero con le parti dorato sia qui nella punta che tutte le scritte e vediamo com'è questo nero dove ve lo metto dove ve lo faccio vedere ho tutti i orologi bracciali con l'an allora ve lo metto qua è un nero abbastanza abbastanza forte come nero la matita scorre benissimo è quella che si tempera e devo dire che è buona sembra buona perlomeno poi l'altra matita che ho preso è l'astra 24 ore color stein pencil ed è una matita a occhi lunga durata morbida vediamo e questa è nella colorazione 01 questa invece ha la mina retraibile e vi faccio vedere il colore questa è leggermente più scura questa è leggermente più scura e più matta questa è più matta si vede già dallo swatch che è più matta vediamo se riesco a trovare la matita dei miei sogni speriamo poi l'altra matita che vi faccio vedere è sono tutte sì vero sì l'altra matita che vi faccio vedere è astra deep black smoky quindi è una matita occhi sfumabile questa credo che sia anche per la parte di sotto dell'occhio è sempre che si può temperare e vediamo il colore è uguale alla seconda sì come colore è uguale alla seconda forse leggermente più scura però è uguale alla seconda quindi il nero è bello profondo a me piacciono questi tipi di colore proprio che si vede che sia nera e l'ultima che ho preso è la professional e i pencil ed è sempre una matita occhi quindi tra tutte queste quattro la devo trovare una matita che sia buona per me questa è sempre temperabile e la matita è questa questa è molto morbida questa qua è molto morbida ed è questa devo dire che mi piace mi piace come devo dire che mi piacciono tutte e quattro però la seconda la seconda mi sa di gustoso e questo è per quanto riguarda le matite nere ovviamente dovevo fare una full face quindi mi serviva qualcosa di cioè per quanto riguarda gli occhi perché la cipra ce l'ho il primer fissante ce l'ho le matite labbra le abbiamo preso mascara l'abbiamo preso l'unica cosa che mi serviva era una palettina per quanto riguarda gli occhi io ho deciso tra tutta la vasta scelta di prendere questa questa perché i colori malve tutto io ho le smoky ho le obsession quindi tra i malva ci siamo e mi piaceva tantissimo se riesco ad aprirla ma è sigillata perché ancora non l'ho aperta no mi piaceva tantissimo prendere questa tipologia di colori perché mi piace tantissimo il fatto che ci siano questi verdi cioè questi qua questi due verdi qua e questo che è un till credo questo qua ed è molto molto bella così la vedete ma veramente vi giuro che dal vivo è stupenda veramente stupenda e quindi non vedo l'ora di utilizzarla per provare proprio di proprio per vedere queste tonalità su di me come stanno come non stanno perché sono molto molto curiosa mi piace tantissimo e quindi non vedo l'ora di utilizzarla quindi ovviamente scrivetemi un commentino se volete fatto il video della full face per quanto riguarda Astra io la farò sicuramente però se volete vedere tipo che so le labbra invece di Malva l'altro colore più nude ditemelo che lo facciamo e ovviamente vi farò sapere anche per quanto riguarda le matite nere perché sapete che è il mio cruccio quindi ve lo farò sapere e poi ovviamente vi metterò anche le foto quando utilizzerò i mascara vi metterò le foto anche su Instagram quindi se non mi seguite su Instagram vi metto il link sotto ma mi trovate sempre con il nome del canale Stefania di Bernardo questo è il mio nome questo mi trovate in tutte le versioni in tutte le salse niente ragazzi per quanto riguarda Astra credo di aver finito sono molto contenta di avervi fatto vedere i miei acquisti per quanto riguarda gli swatch della palettina dovete assolutamente vedere il mio video e quindi non le farò perché dovete essere curiosi e dovete andare subito a vedere il mio video quindi per quanto riguarda questo video io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao